Allora, raga, Joseph si è dimenticato il Chris Pam aperto, potrebbe succedere qualsiasi cosa Allora, spieghiamo bene, in pratica noi quando andiamo a registrare utilizziamo un'applicazione che ci fa vedere le cam degli altri, ok? Per togliere queste facecam uno deve andare a chiudere la pagina del browser, ok? In questo momento lui è uscito da Discord, è uscito da tutto, però si è scordato questa pagina web aperta, si vede che ce l'avrà icona E noi lo stiamo spiando Lo stiamo spiando Lo stiamo letteralmente spiando Allora, aspetta che metto pure voi, metto pure voi qua sotto Oddio, guarda, guarda come sta vicino allo schermo, non capisce Lo sa Gianfranco Ah, aspetta, mi vuoi vedere? Guarda, guarda, che è là che sta vicino allo schermo Allora, in teoria, in questo momento lui sta andando nel replay di Fortnite perché doveva prendere un file, ok? E mi fa ridere il fatto che... Poco fa ho fatto una mostra stranissima, raga Muoveva la lingua No, non lo diciamo, aspetta che sto sistemando Oddio Guarda, oh, sembra arrabbiatissimo Il titolo del video, spiamo Joseph DeGamer A sua insaputa Aspetta, però Brazzi lo vedo proprio male qua Non Però perché muove la testa come... Ma non lo so Questo è quello che fa Joseph, ragazzi, quando non sa di essere ripreso da una telecamera Ok, aspetta Non Ok No, raga, ve lo giuro che è bello Ecco come, ecco come passare una giornata e come creare un video Attenzione, si gratta le ascelle Ora, se si odorava, ragazzi, io volavo Io volavo Era il video del secolo Ma guarda Ma perché fa quelle facce, bra Non lo so, credo che stia sentendo Mi fa morire che si blocca così, guarda Guarda in giro Fra, sta cosa, sai che è pericolissimo Potrebbe fare qualsiasi cosa Perché sa che comunque non lo stiamo sentendo Non è visto Pensa di non essere visto Ah, aiafra, mi sta venendo il mal di testa da quando sto ridendo Giuro, fa delle facce che mi stendono proprio Lì, una grattatina Una grattatina al mento Sì, domani, insomma, si scaccola e poi se la mangia Madonna, Fra, diventa il video del secolo Potrebbe succedere qualsiasi cosa, ragazzi, in questi otto minuti Perché daremo otto minuti a Joseph prima che si accorga di essere ripreso Anzi, no, io ti consiglio che lo chiami e gli dici qualcosa Oh, vai a vedere sta cosa Vai a vedere questa cosa Ok E vediamo la sua reazione mentre gli stai parlando, hai capito? Ok, ok Magari mentre se lì che li parli si scaccola, fa qualcosa di strano Ok, ok Guardalo, eccolo, eccolo Guarda, zoom, zoom con la testa Guarda, in calma, caso Mi sento male, ragazzi Aspetta, ora ti parlo delle tasse, Fra Ok, vai, vai Attenzione Ok, vediamo se vedete Ok, vediamo Oh, ascolta, mi sono dimenticato di dirti Ma a te ti è arrivata la cosa delle tasse da pagare? La cosa delle tasse? No, le tasse, Fra Tu le tasse le paghi? No Eh, quanto paghi? Ah, faccio Eh, io più o meno, più o meno Io ho la metà Una metà Una metà, Fra Assurdo Impazzisce Eh, sì, poco meno No, no, Fra Oh, dili che in pratica tu Se sei riuscito a fare in modo Che l'attività Col cosa Si è a metà con la tua ragazza Assurdo, digliolo, digliolo Ma con un occhio a queste cose, eh Perché ne sa mai Ah, Fra Voglio dire Tanto ti ricordo il paese in cui siamo Ah, vabbè, certo Vabbè, no Vabbè 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 E ci sto pensando Vabbè, poi dopo nel caso sete lo spiego Non volevo sapere se era arrivata pure a te O se era arrivata solo a me Perché a te che blazi non è arrivato ancora A chi? A te che blazi non è arrivato ancora No, no, da poco, da poco Mi è arrivato Ah, ok, va bene Vabbè, Giuseppe Un abbraccio Poi ti spiego Ciao, ciao Vediamo muo che fa Vediamo che fa Vediamo adesso Hai visto una trattatina? Sì, l'ho vista io L'abbiamo visto tutti? L'ha giustatino, bravo Quella, beh, vedi Ci vuol sempre Nella sua testa Ora ci saranno conti, cose Sì, esatto Dice, perché io ho pagato così tanto? Questo invece paga in cazzo Ma come è possibile? No Guardalo, guardalo, guardalo Sta impazzendo, ragazzi Sta impazzendo Ma probabilmente c'è ancora Fortnite aperto Ma sì, sì, sì Perché sta facendo il replay Ecco lo zoom Lo zoom Quando fa quella zoomata Guardate, mi fa morire Sta facendo la miniatura di Fortnite Sì, sì, sì Giuseppe, guarda un replay Sì, sì, sì Noo Perché non c'ha lo switch sull'altro monitor Poi quando switcherà praticamente schermata È solo un monitor Non se ne hai reso conto È vero Perché lui non è uscito mai dal gioco Oh Eccolo È uscito Attenzione che si è tolto Ah, ah, ah Zoomina a destra Va a morire Quando si inclinava Con la testa Oh, mia saluce Ha riaperto il gioco Ha riaperto il gioco Questa è chiuso Attenzione Botta sul naso a caso Secondo me tra poco si spegne Oh Ehi, abbatta sul naso Una gradatina al collo Attenzione Si slega il collo Eccolo C'è, c'è Signori bar Signori bar Il tocco c'era La scalcolata c'era Mi sento male, bro Mi sento male Quando fa quella zoomatina, bro Mi ammazza Perché sul replay Tu puoi zoomare dal gioco Invece no Lui zooma con la testa Eccolo Ecco Ecco la zoomata No E' niente Ma non Lo sai che se stai fino alla fine Che lui prende si alza E' tanta roba Sì, ma infatti io Aspettiamo un altro pop Poi lo chiamo E gli dico Giuseppe Ma In tutto questo Noi ti abbiamo spiato Fra Lui sicuramente non lo saprà E noi gli diremo che si è grattato le palle E noi stavamo registrando sta cosa Lui ci rimarrà malissimo Perché dice Ma come? Questi allora mi hanno visto tutto La reaction alla rivelazione Sì No, beh Sto video fra te E' tanta roba Questo è un video Prova uscito così Alla cazzo di cane Sì, sì Fra Ma smart fra Subito Smart via Tac Oh, sai Il titolo Spiamo Joseph Si gratta le palle Bellissimo Oddio Però secondo me dovremmo aspettare Eccolo Attenzione Dovremmo aspettare Dovremmo aspettare Che tipo finisca di vedere il replay Esatto Esatto Concordo Poi lui si rilasserà Perché si rilassa Grattatina Grattatina Eh, vediamo Vediamo che fa Oh, ma mentre Bladzy Secondo me lui c'ha paura Se gli fosse successo a lui Cioè, secondo me lui dice E che? Ma quando? Ma lui c'ha due monitor È difficile che gli succeda Capito? Lol Ma in verità Non è difficile Perché se in uno c'hai OBS E nell'altro c'hai il gioco Grin fa me sotto Stai ancora guardando il replay Mamma mia Oh, Joseph Sbloccati Che si stai baggando in sto replay Mamma mia Che ridere ragazzi Aspettiamo il colpo di cena Vabbè, io comunque mi ero già spogliato Cioè, nel senso Scapitasse a me Raga, vi giuro Mi vedete tutto Perché io La prima cosa che faccio Ho finito di registrare Mi tolgo i pantaloni Mi tolgo la maglia Mi metti in mutande Faccio di volte Le peggio cose Che non si potrebbero mai vedere E mi gratto Quella Io una volta Lo feci finita la live Pensando che la live fosse chiusa Sì, me la ricordo Quanto avete riso Nel povero tag che si trastullava Eh, voi avete riso In quel momento Che mi hanno chiamato Mi hanno detto Oh, guarda che c'è La live attiva Avevo due opzioni O vergognarmi O fare il fenomeno E ho fatto il fenomeno Di Syncam Lo so che anche voi lo fate Fine E chiusi la live Dai, Giuseppe Oh, ma sei buggato in questo replay Guarda, guarda, guarda Guarda lì come inclina La testa che ascolta Oh, ma chiamalo Edilis ha bisogno Sul replay Attenzione Guarda il telefono Ah, Blazzi Gli ha scritto Infame No 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 Blazzi che snitch Blazzi lo snitch No No Qui sotto nei commenti Blazzi che snitch No No snitch nel gang No, frate No E ci hai rovinato Te lo richiamo No No Che snitch Giuseppe Eh Eh, brava Ti abbiamo spiato tutto il tempo, brava Stavamo reccando pure Bra Ti sei grattato le palle E ti sei pure scaccolato, Dilli Bra Ti sei grattato le palle E ti sei pure scaccolato, brava Ma no È possibile Ma sì che è possibile Ci abbiamo tutto recato, bro Eh, vuoi vedere Eh Vuoi vedere Va bene Eh, bravo Vuoi vedere Ebra Hai fatto tu Dilli Lo vedrai su YouTube Quando esce il video Non Però guarda il lato positivo Non te lo faccio vedere Ma lo vedrai Quando uscirà su YouTube No Dai Tu fatti fatti Sì Sì No Non ti attendi Guarda 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 È possibile Ma io nel naso No Perché è una cosa Che voglio fare E infatti L'unica cosa che hai fatto È proprio Il dito nel naso Fra Il pollice Dilli Il pollice Il pollice Poi c'hai messo Fra Il dito più grosso Ti sei trapanato il naso No È possibile Inconsciamente Ma a me non mi piace Né mettere le mani in bocca Né mettere le mani nel naso Voglio vedere E poi lo vedrai Bro Lo vedrai su YouTube Saluta No 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 Lo vediamo Ciao 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 Gise Spiamo Joseph Per 24 ore Ciao 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 Ma Grazie a tutti